La Giunta regionale pugliese ha approvato un disegno di legge sulla questione della xylella fastidiosa che ora passa all'esame del Consiglio e che inquadra in un'unica cornice le iniziative necessarie per gestire l'infestazione da xylella e per la salvaguardia degli ulivi pugliesi. La legge prevede anche l'istituzione di una agenzia regionale anti-xylella e per le innovazioni in agricoltura, AXIA, finalizzata non solo al supporto strategico delle attività del Dipartimento Agricoltura ma anche alla gestione operativa della batteriosi da xylella fastidiosa. Il DDL, è detto nella nota, sarà presentato al Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina nel corso dell'incontro previsto a Roma per la prossima settimana.